I signori Gray e Shepard. Siamo noi. Ecco qua. Mi serve un documento. Ecco. Bene, tutti in ordine. Cominciamo. Siamo qui oggi per convalidare un'unione coniugale. Per celebrare l'amore, la felicità e la fedeltà e, beh, secondo me anche un po' di magia. In conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato di Washington? Per unire due straordinarie e meravigliose persone. È vostra intenzione unirvi in matrimonio. Prendetevi per mano e ripetete. Io, Derek Shepard. Io, Derek Shepard. Prendo te, Calliope Torres. Come mia sposa. Nel bene e nel male. Nella buona e nella cattiva sorte. Io ti scelgo. Sei la persona con cui voglio vivere la mia vita. Avete un simbolo che desiderate scambiare? Non abbiamo avuto tempo di prendere le fedi. Allora saltiamo questa parte. Ti amo. Ti amo. Ecco, lei firmi qui e lei firmi qui. Con questi atti e secondo le leggi dello Stato di Washington... Io ora vi dichiaro moglie e moglie. Congratulazioni. Beh, grazie. I prossimi, prego. Oh, il primo ballo. Allora, com'è andata con Teddy? Hai parlato? La mia ragazza ha telefonato per dire che è bloccata per un pa...